carta stampata rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola iniziamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del corriere della sera è giorno della verità su astrazeneca scuola aperte d'estate per chi vuole sfida di biden a putin lui un assassino sì lo penso la russia richiama l'ambasciatore ed ancora eni tutti assolti per il caso nigeria il fatto non sussiste gli spari e la morte nei centri massaggi continuiamo con la repubblica vaccinazioni si riparte ma ora più controlli oggi draghi a bergamo vi siete rialzati lo farà anche l'italia biden putin killer mosca pagherete l'insulto la stampa draghi schiera i farmacisti potranno fare i vaccini biden attacca putin killer senza anima mosca relazioni in un vicolo cieco bergamo un anno dopo quelle file di camion che ci costrinsero a guardare in faccia il virus libero per i vaccini 3 miliardi per il verde 95 l'unione europea pensa al clima non abbattere il virus gli immunizzati potranno tornare a viaggiare solo fra tre mesi pura monti fa pena l'europa troppa impacciata mi intristisce che senso hanno bella i sanitari contro anni 11 anni di fango inutili parliamo con ora del giornale l'appello del premier parla draghi vaccinatevi tutti sostegni passa il condono delle cartelle putin è un assassino biden riapre la guerra fredda bomba europa sui pm italiani limitare le intercettazioni virus infetta anche il senso della patria il fatto quotidiano infiltrati di salvini nel cts dei migliori draghi declassa speranza con strane new entry passiamo allora alla verità la germania si fa i vaccini a noi lascia solo speranza io l'ambasciatore immuni con lo sputnik già da novembre la moglie di terracciano rivela amici russi ci hanno fatto l'iniezione l'abbiamo fatta un vero sollievo benotti non può più fare reati perché arcuri è stato rimosso biden va fuori di testa e dall'assassi dall'assassino a putin parole violente che rischiano di avere pesanti conseguenze il tempo in banca italia i furbetti del vaccino biden putin un killer torna la guerra fredda a roma parte la caccia le dosi avanzate continuiamo con il messaggero astrazeneca ancora defezioni ema verso lo sblocco cambiamo il patto di stabilità l'assurda sfida della dieta a4 cine cine magre con un foglio di carta ricoverata l'attrice zang caso eni nigeria soluzione per tutti niente tangenti il resto del carlino senza passaporto covide niente viaggi attenti a quei due biden spara su putin un killer ha giocato sporco sul voto statunitense mosca ritira l'ambasciatore l'esperto relazioni pericolose ed ora si parla di maneskin che si censurano pur di fare l'eurovision continuiamo con il riformista riassolto scaroni giornali chiederanno scusa gratteri imperatore e con a edo e la politica se la fa sotto tutti in ginocchio dannelli silenzio sui disastri che fece proseguiamo con il mattino il quotidiano di napoli unione europea la guerra di astra zeneca ed ancora il diario di ornella uccisa dal marito io vedo il bene anche dove non c'è tamponi e visita a casa i medici di base del no ecco le monoclonali guariti tre malati su quattro flaconi scongelati attenzione alla luce biden putin un assassino pagherà le sue interferenze crisi diplomatica rapporto cia sul voto 2020 passiamo allora a la notizia vaccinazioni nel caos biden da dell'assassino putin il presidente statunitense ci riporta i tempi della cortina di ferro eni assolta per il nigeria gate descalzi salva la poltrona per quanto riguarda domani la trombosi le trombosi rare tra i vaccinati cosa sappiamo davvero in attesa del verdetto su astra zeneca le correnti sono l'unica alternativa all'unanimità come cambia il pd con letta passiamo a il dubbio soldi alla giustizia e diritti cara cartabia ora si può tangente eni tutti assolti ristori per tutti sì ma c'è rischio beffa per i professionisti un biden da guerra fredda il caso more quel nome che ritorna senza anni continuiamo con il manifesto guerra a freddo putin è un killer biden a testa bassa accusa il presidente russo di aver tentato di modificare l'esito delle presidenziali pagherà un prezzo alto mosca richiama l'ambasciatore toni da guerra fredda mentre cina e stati uniti in alaska provano a trovare una improbabile intesa il pass dell'unione rotte europea per tornare a viaggiare fonda l'an attacca le case farmaceutiche minaccia restrizioni all'export letta sceglie due vice tinaglie provenzano continuiamo con il quotidiano del sud attenti a segare il ramo su cui si è seduti la carta estrema draghi la nuova guerra fredda i soliti giochetti italiani se biden è peggio di trump il fondo sanitario è da rifare un indice misurerà le disuguaglianze continuiamo allora con avvenire il papa mi in ginocchio per la pace in myanmar biden putin assassino guerra fredda stati uniti russi a un passo per tornare a viaggiare continuiamo con leggo in viaggio con il pass covip un passaporto con certificato vaccinale o di negatività per muoversi in europa a sette anni con un cuore nuovo a quattro giorni grave per ustioni la droga si compra con il taxi andiamo con metro la nuova guerra fredda lo scontro nasce dall'intelligenza sulle elezioni americane ma i rapporti casa bianca cremlino sono in un vicolo cieco unione europea un pass vaccinale per viaggiare ultime ore per il decreto che contiene ristori in euro covit cosa lascia nel sistema nervoso ma ne schiena nostra è un'ira catartica sofia si prende la coppa della discesa libera proseguiamo allora con il gazzettino il quotidiano del nord est unione europea contro astrazeneca mancano 90 milioni di dosi veneto 100 ricoveri al giorno dolomiti mille modi di dire neve scaroni descalzi assolti nigeria nessuna tangente passiamo alla gazzetta del mezzogiorno vaccino una battaglia continua in puglia 200 letti di emergenza per affrontare l'aumento dei ricoveri bari per gli alunni fragili didattica a distanza impossibile continuiamo con l'unione sarda sardegna zona bianca blindata ordinanza di solina se si entra nell'isola solo per lavoro necessità vaccini andamento lento accordo con i medici di base il piccolo il quotidiano di trieste sospesa negli ospedali la chirurgia non urgente l'avventura sulla luna dei sette triestini ed ancora quel naufrago che costò a loi delle prime vittime passiamo il messaggero veneto cassa integrazione per i dipendenti delle case di riposo portano caffè ai colleghi 400 euro di multa muore l'ottico tulis da oltre 40 anni in piazzale chiavris lutto a maiano e morta la redova di rino snaidero dirigente sportivo di muzzana stroncato da un malore a 54 anni passiamo i giornali economici iniziamo con il sole 24 ore powell fed tassi fermi fino al 2024 l'economia americana mette il turbo una industria europea per pannelli solari e autobus green decreto legge sostegni cinque fasce per gli aiuti italia oggi professionisti anche in società nordio non esiste un reato a carico del medico che somministra il vaccino milano finanza vaccini si allarga la manica questo è il titolo alto la brexit del farmaco anti covi telecomunicazioni gioggetti la rete unica deve essere a controllo pubblico va fatto in fretta il tribunale di milano e nico niente corruzione internazionale tutti assolti per la licenza in nigeria passiamo ai giornali sportivi la gazzetta dello sport milan tiraci su il calcio dell'italiano ha bisogno di un giovedì da leoni nella coppa della goggia c'è di più poi ancora toro vero da 0 2 a 3 a 2 con il sassuolo super zazza fa svoltare i granata pure la lazio dice addio tutte fuori i perché del flop anche handanovic positivo l'inter teme un focolaio ed ancora passiamo allora al corriere dello sport cambiamo subito l'inchiesta basta inseguire la champions come un banco ma guardiola ci ha fatto soltanto del male gli errori arbitrali sono un alibi adesso più spazio i giovani anche la lazio dice addio alla champion milan united pioli scommette su ibra roma tesoretto di tre gol a kiev inter allarme covid un altro caso dopo d'ambrosio oggi e domani nuovi tamponi blachovic felice di stare a firenze rimonta toro furia del zerbi lo scilla regina sofia libera di vincere america scappa new zealand brava luna rossa il sogno continua e chiudiamo con tutto sport con ronaldo resta il grande sondaggio con 11 agenti big del mercato tutti convinti che cr7 la juve proseguiranno insieme locatelli votato rinforzo indispensabile per il centrocampo bianconero rimonta pazzesca toro 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 da 0 2 a 3 2 all'ultimo respiro doppietta berardi poi zaza due gole mandragora ribaltano il sassuolo e firmano una vittoria fondamentale per il cammino dei granata verso la salvezza nicola può essere la svolta milan ibra vede rosso champions bian 2 1 lazio con dignità ma l'italia non c'è più inter covid ansia focolaio e tua sofia me la merito si liberano lata la libera la gogia conquista la seconda coppa di discesa ho dominato grazie america grazie luna rossa adesso riprovaci tennis sin remusetti golden boy d'italia e poi le interviste bonansea doppietta con la juve poi l'europa melandri voce del moto gp state attenti a valentino nizzolo milano san remo non c'è corsa più bella lever da bolzano a fenix basket il mio sogno usa ed è tutto per il nostro appuntamento con l'edicola la nostra rassegna stampa che ritorna puntuale anche domani come al solito alla stessa ora avete ascoltato carta stampata rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola